Nick de Fraisse, Primo, anche tu hai vinto la championship? Sì, ho capito che dopo la race, perché non lo sapevo. Dino lo sapeva prima della race che potremmo vincere la championship, mi ha detto mio padre e non mi ha detto prima della race, e poi quando sono arrivato, sì, anche tu hai vinto la championship! Oh, buono, sì, fantastico! La race era buona? Sì, era buona, sempre i primi paesi sono un po' difficile, per me nel pre-final era davvero consistente, la final era buona, ma... ho vinto la race. L'JPG sono stati difficili, in pre-finale è andata bene, in finale bene, però comunque abbiamo vinto, quindi... Forgotto i problemi in Sala, no? Sì, sì. Stiamo guando a conclusarlo, holiday!